ciao a tutti ragazzi qui come sempre il vostro ara e benvenuti in questo nuovo video che faccio per la terza volta perché l'audio del microfono per due volte non è andava comunque video in realtà importantissimo non mi sono dato per vinto lo devo far uscire perché oggi parliamo di due preordini veramente importantissimi una coppiata assolutamente da non perdere e ragazzi catapultiamoci subito sul mio sito eccolo qui ara shop per chi non lo conoscesse ancora sito di vendita di action figure per andare a vedere appunto i due protagonisti di oggi e si tratta di vegeta super sian di quarto livello e del nuovissimo spider man mezco deluxe allora ragazzi se volete acquistarli innanzitutto li potete trovare chiaramente sul mio sito prenotabili tranquillamente con un piccolissimo acconto oppure si può saldare anche il prezzo intero se volete togliervi il pensiero ma andiamoli a vedere con calma perché abbiamo un bel po di tempo ecco qua ragazzi spider man veramente pazzesco nel suo design più classico quello di dipco è stanley eccolo qua ragazzi bellissimo con gli occhi stretti tra l'altro mezco si vede che ha rifatto anche il corpo perché lo vedo un po più prestante un po più longilineo molto figo molto figo ma ragazzi a parte avere gli occhi stretti abbiamo la possibilità di dargli anche una testa con occhi un po più larghi un pochino più moderni che cambia totalmente la figura lo vedremo dopo nelle sue pose e inoltre ragazzi abbiamo anche la testa con occhi luminosi una cosa che si vede veramente molto di rado sulle figure di spider man è una figata pazzesca abbiamo la testa intercambiabile di prider parker nel suo stile più classico con gli occhialoni e la testa intercambiabile con la maschera a metà iconica a livelli assurdi abbiamo anche un sacco di mani intercambiabili una marea la basetta con il logo e ragazzi attenzione perché gli accessori non finiscono qui abbiamo la maschera abbiamo questo qui l'effetto dei sensi di ragno nel suo stile più classico la macchina fotografica con anche un'altra tracolla abbiamo le ragno spie ragazzi le ragno spie che io credo di non aver mai visto l'accessorio ragno spia in nessuna figura di spider man veramente fantastico iconico con anche chiaramente il tracker quello che traccia le ragno spie eccolo qua ragazzi bellissimo ma adesso andiamo al comparto ragnatele perché qui ne abbiamo veramente di tutto e di più abbiamo questa qui più lunga che probabilmente può essere usata sia come ragnatele normale ma serve in realtà ad essere collegata a questo che è il paracadute di spider man ragazzi il paracadute fatto di ragnatele abbiamo lo scudo fatto di ragnatele abbiamo la ragnatela questa qui che dovrebbe servire ad essere messa sul volto di qualche malcapitato abbiamo lo zainetto ragnatela abbiamo la ragnatela più corta la ragnatela più lunga con il laccio finale e poi abbiamo anche un'altra ragnatela lunga insomma ragazzi c'è veramente l'imbarazzo della scelta ora andiamoci a vedere un po di pose del nostro spider man guarda qua che figo contro un doc hoc che gli toglie la maschera oppure contro il doctor doom insomma mezco sa come posare le figure ma attenzione perché c'è un altro accessorio che prima non abbiamo visto ovvero questo un'altra base aggiuntiva come se non bastasse ragazzi insomma veramente una figata questo è il simbolo più classico di spider man mezco veramente ha fatto di tutto di più su questa figure eccolo qui posato con i suoi occhi luminosi guardate come cambia la figure con questo viso con gli occhi più grandi rispetto a quando viene posata per esempio con gli occhi stretti sembra veramente un'altra figure ma in realtà cambia solo la testa cambia solo la testa o meglio cambiano praticamente solo gli occhi in realtà bellissimo eccolo qui appiccicato al muro col suo zainetto questo qui con gli occhi più grandi e poi abbiamo questo qui sulla sua basetta con lo scudo gli occhi luminosi ragazzi pazzesco veramente eccolo qui con la testa a metà con i sensi di ragno tra l'altro questo qui è un effetto vero che abbiamo visto prima non è photoshop o cose del genere abbiamo questa qui la posa classica con le mani che impugnano la macchina fotografica insomma ragazzi è la figure perfetta dello spider man classico cioè non è non c'è molto da aggiungere eccolo qui contro il green goblin che probabilmente mezco annuncerà tra poco eccolo qui sul palazzo fighissimo con il suo zainetto ed eccolo qui non poteva mancare con il suo paracadute fatto di ragnatele bellissimo ragazzi fantastico veramente imperdibile chiaramente il prezzo è altino però ragazzi c'è una marea di roba c'è una marea di roba oltre la solita qualità mesco e i vestiti in tessuto questo qui ragazzi va preordinato per forza io ve lo dico e andiamo ad un'altra figure che va preordinata per forza ovvero un altro protagonista di oggi ragazzi finalmente bandai fa uscire il vegeta super saian 4 direttamente da dragon ball gt eccolo qui in tutta la sua fierezza io avevo molta paura riguardo questa figure perché magari bandai poteva riciclare qualche parte di qualche vecchio vegeta qua e là ma fortunatamente non c'è assolutamente nulla di riciclato neanche i capelli era la mia paura più grande sono tutti nuovi i visi sono tutti nuovi ragazzi e il corpo chiaramente tutto nuovo perché si tratta di un vestito mai visto di un outfit mai visto eccolo qua ragazzi bellissimo ora andremo a vedere un po più di dettagli eccolo qui questa è una posa veramente figa a mostrare tutte le articolazioni e soprattutto fa vedere il prodotto finito ragazzi qui non ci sono ombreggiature strane o effetti dati da photoshop come bandai delle volte ci ha abituato a fare questa qui è la figure finita reale quella che arriverà sulle nostre case e devo dire che hanno fatto veramente un bel lavoro qui è dotato il viso serio poi abbiamo il viso con i denti stretti qui vediamo l'effetto energetico le mani spalancate insomma ragazzi è veramente figo qui abbiamo l'altro viso invece urlante con anche le rughette si possono intravedere le mani del final flash abbiamo il viso denti stretti con la mano del big bang attack e abbiamo anche un'altra mano da big bang attack quella con le tre dita questo è il viso serio e prima abbiamo visto che era dotato del viso sorridente non si vede benissimo da questa immagine ma fidatevi che c'è anche il viso sorridente che tra l'altro è uno dei più belli ragazzi e finalmente avremo il Goku e Vegeta Super Saiyan di quarto livello avete già iniziato a preordinarla in tantissimi io vi ringrazio perché ho spoilerato un po' questa figure su Instagram seguitemi su Instagram lo trovate qui sotto in descrizione ragazzi perché li metto molte cose in anteprima anche prima di YouTube perché è molto più veloce chiaramente come social quindi seguitemi anche lì fatemi sapere con un commento qui sotto quale dei due preordini di oggi vi stuzzica maggiormente voglio uno Spider-Man contro Vegeta qui sotto nei commenti sono molto curioso di sapere il vostro parere il like al video è sempre bellissimo così come anche la condivisione vi ricordo che se voleste fare la follia e preordinare le figure le trovate nel mio sito Arashop nel link qui sotto in descrizione io vi ringrazio come sempre per la visione ho perso la voce a furia di rifare questo video ma l'importante è che forse ce l'abbiamo fatta ciao da Ara e come siete sempre